Topazio presenta Franca Valeri in La Centralinista Sveglia 7-2-14-9-5 Pronto servizio sveglia delle ore 7 buongiorno Ma che fa ride? Ma come fa ride la mattina appena sveglio scusi? A lei lavora la notte e mette la sveglia al telefono per andarsene a dormire allora buonanotte Io capisco per alzassimo per annar a letto Che faccio sveglio questo che è nato a letto alle 4? Avrà dormito due ore No poveraccio aspettiamo ma ma perché non se ne vanno a letto prima la sera? Così la mattina si svegliano da soli freschi riposati senza bisogno del telefono Mennomale che c'è una voce pellutata che predispone al risveglio Tant'è vero che un utente me lo disse pure e dice che bella voce che c'ha La mattina perché invece di dirmi il servizio sveglia non me fa dice Peppino arzate che ora? Caruccio Ma sveglia Augusto mio marito ma che lo sveglia fa? Deve fa niente Lavorasse almeno meglio lasciarlo dormire come che se dice chi dorme non pecca Questo bisogna che lo sveglio però servizio è servizio Pronto servizio sveglia delle ore 7 veramente sono le 7 e 19 Aioh a momenti me se magna questo come i lupi proprio Ha detto che fa pure reclamo ma che caratteraccio che c'ha lei sa? Ah beh è vero avevo svegliato il numero c'ha ragione pure lui Fammi fare una telefonata intima va La fatica che mi costa usare sto mezzo telefonico per telefonate personali Mennomale che è una cosa importantissima Pronto mamma? Per stasera allora uova soda insalata condite con olio topazio Lo so che non è una novità usare topazio Volevo solo ricordartelo Ma certo so benissimo che anche a te ti piace mangiare leggero Me l'hai insegnato a te usare topazio L'olio magro che non impregna dei grassi i cibi E se sa che è così Non risparmiate sulla qualità Scegliete sempre l'olio di semi topazio Olio di semi topazio Grazie a tutti.